Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini. Questo è lo slogan dell'iniziativa promossa dalla Funzione Pubblica CISR con gli altri sindacati di categoria che si è svolta questa mattina davanti agli ospedali e ai luoghi simbolo di diverse città italiane a cui hanno partecipato i lavoratori del pubblico impiego in segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza e il rinuovo dei contratti e le nuove assunzioni. Un'iniziativa che segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie nelle scorse settimane. A Bari l'appuntamento davanti alla sede del Policlinico. Noi chiediamo alla Regione Puglia di attivarsi per essere più confacenti a quelle che sono le esigenze degli operatori sanitari. Dimostriamo davanti a un luogo simbolo che è il Policlinico di Bari dove centinaia, migliaia di infermieri e di medici lavorano ogni giorno per tutelare la salute e la vita di quelli che sono i pazienti a rischio. Noi siamo qui per manifestare per loro conto, per gli infermieri, per i medici, per gli operatori sanitari per tutti quelli che stanno dentro a questi nosocomi. Noi siamo qui per dire che a loro serve sicurezza sul lavoro, contrattazione e rinnovo di quelle che sono le problematiche economiche e anche di sicurezza sul luogo di lavoro. Il rapporto con il Presidente Emiliano e con l'assessore Lopalco non va proprio nella direzione giusta? Assolutamente. Non abbiamo ricevuto nessuna convocazione. Addirittura in Puglia, una delle poche regioni in Italia, non è stato convocato il Comitato per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Cosa essenziale perché si possa monitorare la sicurezza degli operatori ma nello stesso tempo poter segnalare all'amministrazione regionale le inadempienze e le inefficienze di un sistema che praticamente garantisce anche la vita di questi operatori. Presente alla manifestazione anche Michele Schinco, coordinatore nazionale per le professioni sanitarie che ha spiegato quanto sia difficile la posizione degli infermieri. Noi potevamo ammettere a marzo eventualmente un non essere preparati però oggi non è più possibile, non è più ammissibile che molti infermieri si ritrovano contagiati si ritrovano con una carenza di organico spaventoso. Noi raccogliamo ogni giorno il grido di dolore rispetto a queste problematiche che diventano un problema sia per gli operatori stessi ma cosa grave anche per i cittadini. Basta guardarci un po' le notizie quotidiane, ci accorgiamo di interi reparti che si ritrovano infettati dal Covid, si ritrovano chiusi e nello stesso tempo va ancora di più ad aggravare lo stato emergenziale in cui noi operatori sanitari stiamo vivendo. Quindi chiediamo veramente alla politica di dare un segnale, un segnale positivo in primis per gli operatori sanitari ma cosa fondamentale per l'intera cittadinanza.